Una materia? Sì, sto studiando una nuova materia. Si chiama Design dell'interazione. Vuoi sapere di cosa si occupa? Si occupa del rapporto tra l'uomo e le macchine, che sono macchine sia meccaniche che digitali, come per esempio la televisione, e prova a facilitare il rapporto e l'interazione tra le persone e appunto queste nuove tecnologie. Presente che ora utilizzi il telecomando per cambiare canale, per alzare il volume, e quindi è una forma di interazione tra te e la televisione. Pensa se tra qualche anno ci fosse la televisione dove te gli dici, cambia canale, e quindi ci sono i comandi vocali per interagire con... sarebbe un modo diverso per interagire con la televisione, capito? Te lo sai già allora. Sì, ma io lo dovevo spiegare a te, capito? Cambierebbe il modo con cui te ti relazioni a una nuova tecnologia come la televisione, capito? Ah, è un bimbo.